Se sa come la penso, vale più un sindaco di un deputato, un senatore o quant'altro, perché soprattutto in questo periodo storico di Covid, l'utilizzo dei fondi europei, avere sindaci giusti al posto giusto con le idee chiare è fondamentale. Quindi un grazie a chi dedica questo sabato mattina al Movimento. Un grazie a Matteo Bianchi che ha fatto l'esatto contrario di quello che fa la politica di solito, ovvero mettere in discussione il suo posto a Roma per tornare a dedicarsi alla sua comunità. E quindi l'applauso mio va a lui e va a tutti coloro che si mettono in gioco, per farlo con i sindaci, con i stipendi di cui manoveremo, per fare l'intenzione di aumentare non solo il trattamento economico, ma anche la tela legale e giuridica per i sindaci che sono in tricea. E poi il grazie, so che lì stava parlando...